ciao a tutti ragazze e ragazzi ben ritornati su kingdom hearts allora giusto ieri abbiamo finito kingdom hearts 158 bar 2 days che poi alla fine sono rivelati una lunga sequenza di per me è stato un lunghissimo video e proseguiamo insomma con la storia dunque sono andato a vedere dobbiamo prima giocare recoded e poi bird by sleep però se non sbaglio anche il recoded dovrebbe essere una lunga sequenza di filmati quindi andiamo a vedere sì vediamo un po se anche questo ci sono da guardare questo qua non so in origine per quale piattaforma venne pubblicato se anche questo per nintendo ds non lo so non lo so proprio anche perché non l'avevo mai sentito prima di essi vedi guarda anche questo è una lunga sequenza c'è un lungo video quindi vabbè e non sono di recoded diciamo non so praticamente niente non so ne dove quando si colloca che punto della trama generale quindi mi sa che lo scopriamo insieme addio no not goodbye when i wake up i'll find you and then there will be no lies ah vabbè c'è la solita sigla anche se anche in questo caso dovrò cambiarvi la canzone per forza dalle so si vedono immagini del primo kingdom hearts sì deve essere il primo anche se la primissima scena era del 2 quando si è risvegliato dalla capsula vediamo la capsula si è un mega riassunto forse senza spiegazione solo a video si prima questo qua c'è i non memories che sono andati nel castello d'oblio dove sora ha perso i ricordi questo è il 2 ok ok la battaglia è la 6 si poi vabbè hanno scoperto che riguarda una forma non sua però poi è l'attornata normale infatti alla fine E questa era la scena finale Quindi è un seguito C'è avvenimenti dopo il 2 Andiamo In 2 giorni 1 per stoppare la scuola di spiegare E il 2 per portare tutti i nostri amati Oltre dove appartengono Per dire la verità Nessuno era facile Ma sicuramente ero felice Di essere il cricotino Per scrivere ciò che succede 2 giorni Oltre senti quieti Qui in questi 2 bambini Ma ora L'unica cosa che resta In una di loro è una sola linea Ringraziare i namini D'accordo Magari perché sono le solo parole Che questo bambino Era pensato di guardare E è il momento di cercare Per bene Ma Chi è questo Namine? Il doro dovrebbe essere alleviato Quando tornerete a mettergli fine Un'estero messaggio Uh-huh Io sicuramente non lo scrivo E sai, non ho mai mai letto Il giornale è stata Non so quando qualcuno avrebbe avuto la possibilità Ma non è solo Ma non è vero Ma cosa Alla le altre pagine Sono completamente Nelca Sì, le parole Sì, le parole sono state Ma non significa Il giornale è semplice No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. And I think we know just the guy to do it. Am I right, fellas? è sempre Sora e chi se no, scusa quindi hanno digitalizzato Sora e quindi anche il grillario ah no, hanno proprio creato pensiamo, forse è virtuale e anche se è ancora Sora, può ristare tutti i mondi in modo che ci sono stati Sì! Oh! Wow! What was that about? I got no idea. Wait here. We'll run next door and take a look. Be right back. I guess Chip and Dale must have figured things out. Excuse me, Your Majesty. But what exactly is it we're doing here? Well, you see, somebody left a strange message in Jiminy's journal. And the only way to find out who wrote it is by carefully analyzing every entry inside. What was the message? Hmm. Their herding will be... Oh. Curious. What is it? Hey! Tell someone in the monitor. Gorge! I thought that Sora was alone in there. Who could that be? I don't remember writing this in the journal. Who are you? Eh, non dice niente. Vabbè. Can you hear me? Hm? Well, after whoever that was. Pass. Did I get myself lost? Where could he have gone? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. There are the Heartland. It's time for you to use your power. Use my what? What? Immagino fossero missioni tutorial. Missione tutorial. Ovviamente. What's this? You have that now because you've gained the power to fight. It's also your power to survive. You're going to have to fight sometimes. But don't ever forget. Keep your life burning strong. It's time to open the door. Just hold out the keyblade. And now. Dic... Huh? How did I get back here? Sora! Sora! Sì, questa voce di nuovo! Chi sei? Sì. Sei ok, Sora? Sì. 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 S Gut Sì. Sì. you guys Cosa devo fare? Beh, stiamo cercando una risposta in quel mondo che hai in. E tu è la sola persona che può trovare. Cosa è questo? Non so cosa sta succedendo. Ma stai dicendo che vuoi che voglio explorare l'islanda? Si, e questo è proprio. E se c'è qualcosa che hai bisogno, ci sarò qui. Ho capito. Prima, guarda qualcosa di diverso. Ho già trovato. Questi blocchi. Cosa facciano qui sulla isla? Beh, questo è parte del nostro misterio. Allora! Spero chiedere. Grazie! Oh, e ricordate, Sora, potremmo essere mondi al mondo. Sì, ma tu sai solo le parole e faccio tutto ciò che posso per guidarti. Non importa cosa succederà, sono sempre con te in spirito. Mi sa che non ti sta più ascoltando. Però vabbè. Dopo parlare con i tuoi amici sulla piazza, hai scelto che più misteri blocchi stavano arrivando all'islanda. Ci hanno anche detto che la personale sospicosa nella scuola era l'ultimo visto a un posto chiamato che si chiede a un posto chiamato il posto secreto. Cosa cosa è che è stato arrivato qui? Ami ormai? Noi? Non è vero che si è fuori questa porta. Wow! Cosa ora? Esa voce! Chi è lì? Mickey? Non è vero! Cosa è quella luce? Guarda! 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 Cosa è successo? Penso che vedo delle stelle. Cosa? Non ancora? Guarda! Guarda! All'unico ha scritto un nuovo entrato! Cosa è un'unica per la passata? Cosa ha fatto? Cosa significa? Cosa significa? Ciò che vuole dove vedi? Cosa significa? Cosa significa? Cosa significa? Pellers, guarda qui sul screen! Ah, potrebbe essere? Penso che sto bene, ma che era quello? Questo mondo è stato collegato. Ah, è tu! Ora stai attraverso. Ah? C'è una strada per il passaggio. Se tu finisci, il nostro mondo stacca. Non ho capito questo. È una strada? Quindi, cosa devo fare con questo? Per rendere questo posto diventato. Il keyhole è il posto. Il keyhole è il posto? Hey, guarda! Parla più chiaro. La prossima volta. C'è quello? Thorop, cosa vedete? C'è qualcosa di diverso qui, Mickey? Il ragazzo in black ha lasciato questo... Eh... Beh, sembrava come un keyhole. Ha detto qualcosa con te? Hmm... Ha detto... Per rendere questo posto diventato, il keyhole è il posto. Deve pensare questo. Il keyhole è il posto. E' un pass per tu il keyhole. Voglio dire... ... C'è questo posto? Tora, sei bene? Sì... Penso che... Ma... Cosa sta succedendo con la nostra strada? Non è sicuro. Ma... 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 Cosa che è causando gli glitchi... Deve essere là. Ma... Se... Sì... Sì... Ah! Sì... miten Prendkmettete! nel primo, uguale, uguale il primo, uguale, uguale, uguale ci sono altre ferite oltre a quella che abbiamo appena curato ciao è un diario che ha vita propria a quanto pare per quanto digitalizzato beh, lì qui è nella città di mezzo come ho fatto? come ho fatto? hey sora, sei bene? mickey, dove sono? cosa succede a me ora? tu dovessi essere andato a qualcosa dicci a me cosa vedo a te sembra come una sorta di bambina hey, aspettate, l'islanda cosa succede a l'islanda tutti i blocchi dispararoni tu hai fatto un ottimo lavoro sora sono felice di ascoltare quindi ora sono in una città strana ma perché? è questo posto pieno di glitchi anche? non ho ancora ma potrebbe essere ci sono in un'acqua guardate bene ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo in quel mondo c'è Strange was happening in that world, too. Huey, Dewey, and Louie decided to go investigate. You took off to find them, because you promised Sid you'd bring them back safe and sound. Boy, does that bring back memories. Oh, yeah. I remember it, too. That's why we're next on our first adventure. And also, Yuffie, Aerith, Leon, too. Wonder how those guys are doing. Interesting. So that's where you three became friends. I got a question for you. When the journal got all digitized, we found the old entries, right? So, does that mean the Pluto that woke Sora up is the Pluto that's just made of his data? Why do you ask, Goof? Well, I'm wondering if there are data versions of all of us inside there, too. Beh, molto probabile. That's a good question. Eh. Jiminy, what do you think? I'm afraid, your majesty, that I don't actually have an answer to that question. As you know, the bugs are blocking our access to all of the data. It's quite possible that the entire data world has been fragmented. and that it's not a whole entity like we first thought. We just haven't figured it out. It's quite possible that Sora is our hero. Oh, yeah! You're right. I'm sure that Sora will lead us to the answer. Eh, sì, lasciate di fare sempre agli altri, eh? Mi raccomando. When you found Huey, he had a fragment of light. You sent him back to Sids, and then found Dewey. He had a light fragment, too. Then you found Louie, and one more light fragment. They created a keyhole, but with a piece missing. After that, you took Louie and headed to Sids. Louie, run! Go to Sids and wait! I hope you're happy with all the trouble you've caused. What's this? Hey, is this another fragment? Where'd he... I knew it. This is exactly like the keyhole that guy left for me back on the island. Sora, can you hear me? Mickey, I found another keyhole like the one from the island. If this works the same way as the one before, all I gotta do is defeat whatever enemy is inside this keyhole. Let me see if I understand. You're thinking this one might do the trick, too? The source of the glitches for the world you're in might be inside that keyhole? That's right. I'll crawl inside and give that thing a piece of my mind. When I'm done, the town ought to be just fine. Hey, I gotta try. Okay. But just promise me that you'll be careful, Sora. You can count on that. Did you see me? How do you like that? Huh? Why are the blocks still here? Am I missing something? That Heartless' power must be lingering. But don't worry. All you gotta do is use your power, Sora, and that'll end the glitches here once and for all. Use my power? You bet. You've got a power that's yours alone. Use the keyblade and lock that keyhole for good. All right. Here goes. Forse c'è stato un altro scontro. Oh, right. Parto. Because of you this world's mystery is solved. Yeah. But what about that guy in the Black Hood? I mean, he could be the one behind this whole mess. Oh, eh, no, sappiamo, affè. It's another new entry. Hmm. It looks to me like a new message gets added every time a world inside the journal is repaired. Yeah, just like before. This is, diciamo, il ricordo, chiamolo ricordo dell'incontro tra Pipo, Vaperino e Sora. Infatti mi pare che non c'era Pluto. you fellas think that maybe the journal is trying to tell us something? we gotta check the rest of the castle now. It won't open. Hey, hello, anybody out there? This is not our day. Well, fellas, I hate to say this, but we're trapped. Well, what? But tell to me heartless, roaming the castle. Huh? Huh? What's that? Undo the hurt to unbar the way. Gorge, we're trying. it said we've already undone some of it, right? Well then, we'll just have to keep going, repairing the journal's data as fast as we can. Whoa! Your majesty, I think Sora just might've reached the next world. But me don't do something about the castle. I'm as worried as you are, Donald. But right now, our best hope is fixing up the journal. Mm-hmm. Secondo me, diciamo, risolve i problemi nel grillario e li risolve anche nella realtà. Whoa, guardate tutti questi blocchi. A questo punto. Provo? Sora, you attend somewhere else. I saw a message to Ted, undo the hurt to unbar the way. That might mean that mending the hurt in one world is the key to opening up a realm to the next world. I don't know much about what's going on. What I do know is that after I beat the enemy, I ended up right here. And from the looks of this place, this world could probably use some help. I think you're right, Sora. And if this world like the others gets ordered to fix it, you'll have to find the keyhole and defeat whatever enemy is hiding inside. But if I do that, then I'm just gonna get blasted off into the unknown again. Won't I? I'm good with that. Yeah, I'll help in any way I can. I'll go and track down whatever it is that you need me to take care of. That's great, Sora. Thanks. Who's that? Please help! The Heartless. I've got this. Stay back. Thank goodness. You okay? Yes. Thank you. Oh, um... Have we met? Who, me? I'm Sora. And you? Well, I'm... Hmm... What's wrong? Oh... I really don't know why. but I can't remember. Her mind is oh so fuzzy, much like me. What are you saying? That she has amnesia? Not only Herb, but everyone here as well. Things have become quite buggy. Can't you tell? So, the bugs have caused everybody to have funny problems with their memory? If that's true, I'd better find the keyhole quickly and make this world okay. I think I... If you're looking for a keyhole, I believe I saw one somewhere. Huh? Where's that? Hmm... I just can't remember. What could she remember when her memory's dismembered? Perhaps an inkling could help get Earth's inkling? What's an inkling? An inkling is for you to figure out. If you find one, this will be forgotten. Or is it that it will be... remembered? Lo stregatto è sempre molto chiaro. Eh. Però la voce dello stregatto era la stessa di Winnie the Pooh. What was my name? Oh, if I could only... Maybe it's Alice? Yes, of course! Of course! My name is Alice! Hey, that's great! Your memory's back! So that keyhole... Do you have any idea where you might have seen it? Well... Let me think for a moment... If I recall correctly, it had a sort of glow. That's right! Do you know where? Oh... I'm afraid I'm still ever so foggy. The fog that's bogging could be unclogging with just a smidgen of memory jogging. Okay. So if I keep on giving her inklings, she'll eventually remember where she saw the keyhole. But where can I find more inklings? Perhaps one way or another way or in between ways. No one never knows. Okay, Alice, I'll be back with more stuff to help you remember. Just stay right here. Yes. That's right. Sort it out and end the herd. Our world still aches. And your next road still awaits. Would you tell me what you want? Ma mi sa che te l'ha detto. Cioè, sistemare questo mondo strano. In the report do you happen to remember what it was that they called a nominee? A witch who changes memories. Yes, that's right. Gorge, is that your second journal, Jiminy? All the strange occurrences taking place in these worlds are about the first journal in which Thank Nominay was written. But as far as I can tell, the second journal seems to be just fine. Are you thinking Nominay may have something to do with it? Well, I can't be absolutely certain, but I have a feeling that that may be what's going on. Hmm. Guess you better wait and see what happens. Well, I guess I'll be going to have a stop here. Scusate se parlo poco, ma francamente non saprei cosa dire, anche perché non... Mentre nel diciamo in 358 days era chiaro fin da subito che comunque sarebbe stata un po' la storia di Roxas come diciamo era poi arrivato a ritornare insomma con Sora insomma a diventare una cosa sola qua boh è strano, non saprei proprio, forse è uno spin off a questo punto cioè sicuramente avviene dopo il 2 a livello cronologico però boh riguarda il diario del grillo che ha quel problema non lo so, boh vediamo vediamo tanto non penso sarà una serie lunga se non tutti filmati massimo penso 4 o 5 episodi non lo so, non lo so vediamo ecco insomma almeno per curiosità mia e penso di qualcuno di voi di vedere cos'è questo Kingdom Hearts Recoded magari alla fine non si capirà bene tutto come sempre forse va bene io comunque vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video e continuiamo domani con il resto di questo diciamo tra virgolette gioco ciao a tutti ragazze e ragazzi ciao a tutti ciao a tutti